Il territorio della provincia grande, da sempre bello e decisamente vario, non finisce mai di stupire. Le bellezze delle valli della provincia sono un patrimonio turistico particolare. Al fine di valorizzare una forma di visita del tutto nuova, sono stati realizzati e presentati una serie di percorsi cicloturistici che mettono in luce proprio quello che è uno dei fiorellocchiello dell'azienda turistica del Cuneese. Gli amanti di questo genere di turismo non mancano e correranno il caso di dirlo a frotte per provare questi percorsi. Sì certo, noi partiamo da molto lontano, sono circa 20 anni fa, avevamo ipotizzato l'idea di collegare il parco del Margueris col parco delle Alpi Marittime a livello ciclo naturalistico e questa idea si è sviluppata nel tempo attraverso una serie di interventi che hanno fatto le singole amministrazioni e la comunità montana diretta per quanto riguarda soprattutto le piste ciclabili nell'interno dei concentrici o a bordo dei centri abitati. Dopodiché è nata invece l'idea di andare a verificare anche quello che è una richiesta che arriva soprattutto dai turisti che vengono dal nord, cioè quello di avere delle piste ciclo naturalistiche vicino o comunque nell'interno dei parchi naturali e abbiamo predisposto dei progetti che sono stati finanziati dall'Unione Europea e dal Cipe anche a livello nazionale e di lì è nata ancora l'idea di fare un attimino la fotografia di quello che avevamo fatto e di quello che sarebbe necessario ancora fare. E su questo ci siamo appoggiati al professor Tichi che è un presidente dell'associazione mi pare Bici in Giro, una cosa del genere e dopodiché abbiamo consultato due professionisti che collaborano con la comunità montana che sono l'architetto Soave e la dottoressa Penezola e cosa abbiamo fatto? Semplicemente un documento di programmazione. Abbiamo voluto, prima che ci chiudano le comunità montane, abbiamo voluto consegnare ai comuni, alla provincia, ai parchi e anche qui alla TL un documento dove fosse verificata la situazione di tutte le piste ciclabili e ciclo naturalistiche presenti sul nostro territorio e soprattutto verificare le criticità in maniera tale da offrire ai comuni un documento di programmazione ma anche tecnicamente avanzato per poter andare a intervenire con i futuri fondi europei del PSR. Questo è il nostro obiettivo, credo che si stia concretizzando perché c'è molto interesse da parte dei comuni, c'è molto interesse da parte dei parchi e come diceva lei c'è molto interesse a livello di azienda del turismo locale proprio per quanto riguarda questo tipo di attività. Da quello che ha detto lei emerge comunque una grandissima qualità del territorio ma soprattutto molti aspetti legati proprio alla bellezza del territorio. Allora dal suo punto di vista come Presidente su cosa bisognerebbe puntare di più? Quali sono le zone maggiormente appetibili? Guardi, in questa indagine abbiamo anche fatto una verifica delle presenze degli alberghi e dei break fast e degli agriturismi vivendo sul territorio. Io credo che sia tutto bello dalla pianura alla montagna. È ovvio che per noi è importante e porta dei buoni risultati collaborare e lavorare insieme i due parchi naturali del Piemonte perché sono i due parchi più interessanti e più validi e soprattutto perché c'è una richiesta da parte degli stranieri nell'interno del parco di avere questi tipi di servizio. Il parco dell'Argentiera è poi un parco che dialoga moltissimo con la Francia, col parco del Mercantour e questo ci potrebbe permettere nel futuro a noi come amministrazione se ci saremo ancora, comunque ai comuni, di dialogare meglio anche in questo settore con la Valle Roia. Pensate che gli olandesi io non li ho mai visti, io abito a Peveragno, c'è un piccolo campeggio, tutte le state le riconosco gli olandesi perché vanno in bicicletta e vanno a comprare nei nostri negozi. Il lavoro è stato fatto a livello di pianificazione dei possibili interventi di qualificazione della ciclabilità e quindi si tratta di un piano e non di un progetto, questo è importante come punto di partenza, però la ricognizione sul territorio ha permesso di georeferenziare tutti i tracciati plausibili di fruizione e quelli che potevano avere delle criticità per consentire una fruizione più semplice e graduandone, diciamo, gerarchizzandone un po' la difficoltà tra facili, medi e più impegnativi e questo è un aspetto fondamentale proprio per poi individuare il target, diciamo, di fruitore più adatto alla frequentazione quindi anche in termini poi di promozione, di valorizzazione delle opportunità di questa ciclabilità. Questo è un dato significativo, oltre a questo si sono individuati sia criticità di carattere lineare quindi la mancanza di collegamenti tra un percorso e l'altro all'interno dei diversi comuni e anche a livello intercomunale nella prospettiva e poi criticità di carattere invece puntuale per esempio attraversamenti di corsi d'acqua piuttosto che passaggi difficoltosi accanto a terreni di proprietà privata che è questo un altro aspetto che non va trascurato e tutto questo nell'ottica di rendere funzionale e fruibile una percorribilità di area vasta che coinvolga sia il territorio della comunità montana e delle Alpi del Mare i suoi due parchi, anzi tre parchi, si parla del parco del Marguarese, il parco delle Alpi Marittime e del parco fluviale Gesso e Stura che ha una porzione di territorio all'interno della comunità montana e anche proprio nell'ottica di collegare attraverso questo importantissimo tassello la rete ciclabile di pianura con la rete poi trasfrontaliera in Francia si sta anche lavorando proprio in questa direzione anche con i vicini francesi ci sono dei rapporti consolidati ormai da anni di relazioni a livello sia di progettazione sia di conduzione di sviluppo di progetti comuni e quindi l'ottica anche quella trasfrontaliera il tutto ovviamente con uno sguardo ormai verso la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 che dovrebbe effettivamente dare delle opportunità anche di sostenibilità economica per questo tipo di interventi e per tutta la fase poi di promozione di questa opportunità di visita e di soggiorno che chiaramente necessitano di risorse e di sostegno pubblico Come sono stati programmati anche questi percorsi? Cioè mi ha detto lei lineare oppure legati comunque ai passaggi nelle determinate proprietà ma anche collegati immagino che so con bed and breakfast? Sì, questo è fondamentale perché l'offerta turistica non può prescindere dal discorso dell'ospitalità e dell'accoglienza adeguata ovviamente al tipo di fruitore quindi sono stati anche censiti tutte le strutture ricettive e della ristorazione presenti sul territorio per le diverse categorie sia alberghiere che straalberghiere e nonché anche quelle che possono essere le opportunità di acquisto di reperibilità dei prodotti più tipici sia dell'agricoltura che dell'artigianato Altro aspetto fondamentale per chi visita il territorio e poi vuole trovare un riscontro diretto non solo nell'ospitalità, in albergo o nel ristorante ma anche proprio portarsi a casa come si dice un segno appunto di questo territorio visitato Nel disegnare i percorsi c'è stata qualche particolarità? Qualche cosa che, diciamo, curiosa? Ma intanto i percorsi, percorsi è preciso che sono comunque percorsi esistenti cioè noi non abbiamo inventato, creato, ideato dei nuovi tratti in realtà c'è un patrimonio enorme che offre delle grandissime possibilità e quindi si è trattato di pensare a una riorganizzazione di questo patrimonio per poter rendere fruibile l'esistente migliorandolo ovviamente anche per una percorribilità in sicurezza tenendo conto che molti di questi tratti si rivolgono proprio anche a questi percorsi che diventano dei veri e propri itinerari nel momento in cui coinvolgono anche le strutture private piuttosto che le emergenze artistiche o architettoniche presenti questi itinerari diventano fruibili anche per un pubblico familiare cioè quindi anche per i bambini stessi quindi deve esserci una garanzia di sicurezza assoluta quindi questi sono stati degli aspetti importanti si è cercato il più possibile ovviamente di non andare a interferire con le proprietà private ma si tratta nella maggior parte dei casi proprio di una viabilità pubblica quindi a limite con delle necessità di perfezionamento e di ripristino ai margini e quindi si tratterà poi chiaramente in alcuni casi di procedere con un confronto diretto con le proprietà vicine ma questo direi che è un aspetto a livello di quantitativo marginale L'altro aspetto interessante è quello di trovare in modo anche innovativo una percorribilità assolutamente a basso impatto quindi interventi molto semplici anche dal punto di vista della realizzazione e possibilmente del costo, cioè di costo contenuto e che prevedano una manutenzione, interventi manutentivi molto limitati e che prevedano una manutenzione